Questa guida vi insegnerà come inserire un nuovo messaggio sulla board Freeplay Club. Innanzitutto scegliamo la sezione dove vogliamo inserire il nuovo messaggio, in questo caso la sezione Umorismo. Clicchiamo su Inizia nuova discussione. Si aprirà la finestra di inserimento per le nuove discussioni. Ora, cambiando pagina, andiamo a cercarci un testo da poter inserire, nel nostro caso una barzelletta. Coppo la barzelletta e poi cambio di nuovo pagina per andarla ad incollare nella finestra della nuova discussione. Diamo un titolo alla nostra discussione, dopodiché non dovremo fare altro che mandarla premendo il tasto Inizia nuova discussione. Ed ecco la nostra discussione con il suo bello annuncio in Shootbox, in modo che tutti possano sapere che è stata posta. Un'altra discussione con il suo bello annuncio in Shootbox, in modo che tutti possano sapere che è stata un'altra discussione. Nel caso ci accorgessimo di aver fatto un errore, possiamo sempre modificare la nostra discussione premendo il tasto Modifica. Modifichiamo poi il messaggio e possiamo salvare infine le modifiche. Sperando di aver rifatto cosa gradita, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima guida. Ciao a tutti! 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 ! ! ! ! ! ! ! !